Insomma, conosciamo Parigi, parliamo francese, conosciamo pregi e difetti di questa città. Non ti ho spiegato che io parlerò così a volte. Perché? Cioè io a volte parlo di lana. Porca, però io... Sapore di sale... Sapore di... Siamo un cojone. Ma che cazzo dici? Cioè... No, troppo un cazzo. No, troppo un cazzo. Condividere. Ecco, questo è il punto forte mio di svevo. Dai, però, mi devi tutti storti. Dico io, ma tu ti metti a fare storie di soldi, tu? Toh, sai che... Toh, vada a fare la cena. Bambini, da. Storti. Il rispetto delle persone. Cioè, in questa città... No, no, non ci siamo. No, perché già sono convinto che ho sbagliato delle cose prima. No, perché sai, noi romani abbiamo un difetto. Cioè, quando stai a Roma pensi che è al centro del mondo, no? Che c'è solo Parigi. E invece, venendo qui... No, sbagliato. Ma conosciamo Parigi, parliamo francese, conosciamo pregi e difetti di questa città. Con occhi diversi, sai quanto conta per un lavoro qua, no? Con un lavoro, con un'occupazione, non sarai più irrital, disoccupato e scansa fatiche che tutti quanti credono che tu sia. Andiamo? Guardi, franca me? No, non lo so. Eh, oh! Eh, eh, senti, devo imparare le battute, eh? Ma non lo ti cazzo. Ma non lo ti cazzo, tu hai scritto tu? Ma non lo ti cazzo, sei tu che ti rompi il cazzo da solo. Ma non lo ti cazzo.